È domenica, sono le 5 e un quarto e con la famigliola festante siamo venuti a visitare questi meravigliosi scavi archeologici di Satricum. Eccolo qua, questo è il cartello, Satricum, mostra scavi e reperti archeologici dall'11 giugno 2014 all'11 gennaio 2015. Quindi diciamo che è una mostra temporanea, io avevo capito che fossero scavi aperti definitivamente, ma forse lo sono. Vediamo, qui è chiuso però, non c'è nessuno. Questo è l'ingresso, lì si vede, però è tutto chiuso, vediamo se c'è un cartello qua. Allora, ok, il cartello dice che gli orari di visita sono martedì e venerdì dalle 10 alle 13 e poi si può telefonare ad un numero in giorni di apertura. Se viene un turista straniero deve conoscere l'italiano però, perché qui scritte in altre lingue non ce ne sono. Non si vede niente, niente, è chiuso. Che ci sia un bel cartello magari in inglese qui, andiamo a vedere questa vecchiesetta delle ferriere, credo. Vediamo un po'. Ecco, questi sono gli scavi di Satricum. No, non c'è scritto niente. Non ci sono cartelli. Questa è la chiesa di Santa Maria Goretti. Vediamo se per caso c'è. Qui c'è il cartello della casa del martirio di Santa Maria Goretti. Ecco, questo è il cartello che c'è. Questa è la chiesa di Santa Maria Goretti. Questa è leader pari mi privilità mir proceso. Qui ci permittai intervenire Grazie Grazie Grazie